Amici sportivi, amici fantallenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano di fantacalcio, video importanti, soprattutto video che arrivano tramite vostra richiesta. Oggi analizziamo, anzi iniziamo ad analizzare con questa playlist, quelli che sono i nomi preferiti del veterano in ottica fantacalcio, in ottica asta fantacalcio e quelli che vi ho evidenziato, che vi evidenzio in questi giorni, sono due nomi per ruolo, quindi due difensori, due portieri, due centrocampisti e due attaccanti sono nomi che mediamente sono stabili nelle rose e che possono evitarci sorprese in corso d'anno. Passate sul mio canale per fare sottoscrizione, attivazione e campanellina, quindi partiamo subito con questo video, direi fondamentale, come vi dicevo, giocatori che possono essere stazionari e quindi non, come dire, privi di sorpresa. Partiamo con il primo portiere, Carnesecchi, il primo portiere difensore dell'Atalanta, che di fatto ha titolarità, vista la partenza di Musso e l'arrivo di Rui Patricio come secondo, quindi buona sicurezza per il giovane giocatore atalantino, Carnesecchi l'anno scorso ha fatto, direi, molto bene, qui vedete le sue medie voto, fantamedie voto, mi interessa esprimere quello che è il flusso, l'andamento dell'Atalanta come gol subiti negli ultimi tre anni, tre anni fa 48 gol subiti, due anni fa 48 gol subiti, l'anno scorso 42 gol subiti, Carnesecchi si paga circa il 7%, quindi un prezzo sostenibile per una difesa che comunque prende mediamente abbastanza pochi gol, chiaramente non imperforabile, ma una difesa comunque molto solida, che può essere pagata al giusto prezzo, se vogliamo risparmiare qualche creditino sulla spesa, ma Carnesecchi è un giocatore molto bravo, soprattutto per il modificatore difesa, ha una media voto sempre molto alta, quindi 16-19 l'anno scorso migliorabile quest'anno. Il secondo portiere che vado ad esaminare è il mio preferito, è di Gregorio, ve l'ho detto ormai diverso tempo fa, giocatore che oltre ad essere molto bravo tra i pali, vedete media voto 6-35 lo scorso anno, ha diverse combinazioni importanti, intanto ha trovato Tiago Motta che l'anno scorso con Bologna ha preso solamente 32 gol, quindi il mister Tiago Motta è molto affidabile a livello fase difensiva, di Gregorio è vero che si paga circa l'11%, ma come detto ha delle media voto e fantamedia voto che sono sfolgoranti per un portiere, quindi è assolutamente imperdibile se avete modificatore difesa e porta in battuta, perché oltre a questo avrà diversi clean sheet, quindi evidentemente le porte in battuta portano bonus, quindi avere una ventina, 21 di porte in battuta equivale ad avere circa 7 gol, quindi pensateci prima di non fare questo passaggio con Di Gregorio. Primo difensore che vado ad esaminarvi è Darmian, difensore che non mai conoscete tutti, molto affidabile, di fatto è un titolare allargato della rosa di Simone Inzaghi, evidentemente Darmian è un giocatore che non parte sempre a titolare, ma è un giocatore che va tante volte a voto, media voto molto interessante lo scorso anno, 6.14 che può essere ripiegato quest'anno, si paga mediamente il 3%, solamente due ammunizioni lo scorso anno, media voto e fantamedia voto interessanti, la fantamedia voto è 6.33, è già andato in gola, ha già timbrato, quindi un bonus è già stato bruciato, ma chi deve ancora fare l'asta, magari con un 2-3%, può ottenere questo giocatore fantastico, che ormai ha 34 anni, ma che dà sempre il suo contributo molto affidabile, molto interessante per il fantacalcio, chiaramente potete prenderlo anche senza la copertura di Dan Friese, evidentemente potete prenderlo anche in solitaria, soprattutto in Lega 10 o Lega 12, è chiaramente un difensore, come detto, molto molto affidabile, di cui Simone Inzaghi si veda tantissimo. Il secondo difensore, un nome un po' più insolito, è Bijol dell'Udinese, giocatore che negli scorsi anni ha avuto quotazioni interessanti, l'anno scorso ha chiuso con la media voto del 6.08, con pochissima munizione, solamente 4, quest'anno si paga circa l'1,5%, e quindi un prezzo abbastanza sostenibile per lui, vi ricordo che questi PMA, questi prezzi media aste, sono presi da Fanta Lab, che ringrazia ancora una volta pubblicamente, e che vanno a occupare più di 10.000 aste, quindi campione molto affidabile, e Bijol è sicuramente anche con l'arrivo di Rugnaic, è evidentemente un difensore molto affidabile per i modificatori di difesa e si prende a un prezzo basso, quindi è un perfetto quarto srotto in Lega 10, quindi per questo motivo ve lo vado ad esaminare, ve lo vado ad inserire, soprattutto per la sua titolarità, e per questo motivo evidentemente ci può dare un grande supporto a Fanta Caccio, e quindi non escludiamo un giocatore come Bijol, un giocatore sloveno, che è nel pieno della maturità calcistica, 25 anni, nelle nostre rose di Fanta Caccio. Reparti più affollati, più intensi, partiamo dal centrocampo, Orsolini, giocatore anche lui come Bijol, nel pieno della maturità calcistica, 27 anni, Orsolini ha passato alcuni anni un po' altalenanti, poi ha preso la via dritta, quindi sono davvero molto contento, il prezzo medio in asta è un centrocampista, si paga circa il 10%, Fanta media voto l'anno scorso 7.06, quindi molto alta oltre il 7, media voto 6.16, è abbastanza stabile, 10 gol, 2 assist, solamente 2 munizioni, e questo è interessante perché Orso è sempre stato abbastanza uno scugnizzo, quindi evidentemente in campo il suo l'ha sempre fatto, la Fanta media voto 3 per quest'anno è 7.27, quindi in crescita, e quindi un 10% per di fatto una terza punta nel vostro scacchiere, ma l'istrato centrocampista è un sacrificio che va fatto, magari anche in coppia con un altro bel top di centrocampo tipo Dennis Ma, ma chiaramente Orsolini è uno di quei giocatori, essendo anche rigorista, che vanno assolutamente presi come grande affidabilità e quindi ve lo consiglio vivamente. Il secondo centrocampista invece che vi consiglio è un giovanissimo, che tanti di voi hanno già conosciuto, tanti di voi conoscevano già prima di queste prime giornate di campionato in Serie A, perché Nico Paz è sicuramente un giocatore conosciuto e più, ha più attenti, ma chi non lo conosce l'ho potuto già ammirare, giovanissimo, ha solamente 19 anni, prezzo medio e nasta circa l'1%, e quindi è un prezzo ancora molto, molto sostenibile, è un giocatore che nel Real Madrid Castiglia ha fatto 35 presenze, 9 gol, ma soprattutto ha dimostrato, nonostante 19 anni, grandi lampi di classe. Si prende a un prezzo bassissimo, l'1%, ma soprattutto per chi fa i contratti pluriannali, quindi giovanili, under, primavera, biennale, triennale, è un giocatore da girare con il cicoletto rosso, come diceva Rino Tommasi, per cercare di portare sulla casa. Giocatore argentino, chiaramente Fabrega, sembra non che ne capisce di calcio, valuteremo poi anche Perrone, perché anche qua abbiamo del materiale calcistico davvero molto interessante, e quindi Nico Paz va preso già al fantagalcio, già quest'anno chiaramente settimo, ottavo slot. Primo attaccante, Charles de Ketelar, vedete qua la sua headmap abbastanza clamorosa, perché copre tantissime zone di campo, un giocatore molto intelligente dal punto di vista del fosforo, mi piace tantissimo, de Ketelar non l'ho mai nascosto, è un giocatore che in mano a Gasper è stato formato, ha solamente 23 anni, PMA, prezzo medio asta è circa 10-11%, quindi è vero che è abbastanza caro, ma comunque va preso, è un attaccante, l'anno scorso è stato influenzato il prezzo, perché chiaramente l'anno scorso era centrocampista, oggi è attaccante, un, diciamo così, il suo alter ego, diciamo un lookman, perché più o meno ha portato i stessi bonus, si paga circa il doppio, il 20%, quindi de Ketelar ha ancora un bel prezzo a fare, quindi l'anno scorso ha fatto 10 gol, l'otto assist, insomma quasi una doppia e doppia, quest'anno potrebbe ripeterla, davanti l'Atalanta è rimasta un po' scarica, perché con l'infortunio di Scamacca, e con la situazione di Zanero che non è al massimo, non è ottimale, de Ketelar ha chiamato un po' gli straordinari, e quindi portiamocelo a casa, il prezzo davvero invitante, perfetto terzo slot, il Lega 10, ma anche il Lega 12. Ultimo attaccante, l'ultimo giocatore che analizziamo è Taremi, giocatore che adoro, prezzo medio asta bassissimo, non so perché 6%, di fatto lui è un titolare allargato, pensate comunque due stagioni fa ha fatto 22 gole, 7 assist, insomma un giocatore abituato ai bonus, un giocatore abituato a segnare, essere assistente per la squadra, un giocatore che chiama in soccorso i suoi compagni, già un assist al suo attivo, evidentemente qua Simone Enzaghi lo chiamerà essere un titolare allargato, avete visto gli impegni che avrà l'Inter in Champions, quindi è inevitabile per il giocatore iraniano essere sempre chiamato in causa, quindi un 6%, ma anche un 10%, anche un doppio di questo valore, quindi 10-12% è un prezzo assolutamente alla portata nostra, perché chiaramente Taremi entra in un meccanismo di squadra dove di fatto abbiamo tanta fase offensiva e l'Inter è abituato a fare questo, chiaramente Taremi è la prima scelta dopo Martinez e Turam, ma evidentemente se uno dei due sta male o comunque viene chiamato in rotazione sempre dopo i 60 minuti, chiaramente Taremi va schierato sempre e comunque. Tutto questo lo trovate, diciamo le statistiche su Fanta Lab, con anche prezzi medi di Asta, chiaramente fate questo passaggio perché è davvero di alto interesse, trovate qui sotto il link per accedere alla funzione Premium e quindi fate questo passaggio perché trovate direttamente il link di Fanta Lab per accedere al veterano, otterrete le mie fasce, insomma avrete tanto materiale a supporto, chiaramente questo ha un costo direi molto risibile perché evidentemente è un prezzo molto molto basso, vi lascio anche in sovraimpressione quello che appunto il link per accedere per chi non ha voglia o tempo di andare a selezionare la scheda qui sotto col video. Io vi aspetto presto, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon Fanta Calcio, buone Asta ancora perché deve farle, qualsiasi necessità, mi potete contattare in qualsiasi modo, quindi rispondo praticamente sempre a tutti, quindi non fatevi nessuno scrupolo, sono sempre a disposizione perché Fanta Calcio è il bene più grande di tutto. Un abbraccio, ciao ragazzi! Fanta Calcio è il bene più grande di tutto.